Domenica 29 settembre la concessionaria Mazda di Osimo Auto 82 ha presentato un nuovo modello che arricchisce l'ampio listino di Mazda, il noto brand giapponese che ha fatto molti proseliti anche in Italia. Stiamo parlando della CX30, una crossover che si posiziona a metà strada fra la CX3 e la CX5, nel redditizio segmento di modelli che uniscono dimensioni relativamente compatte a una generosa spaziosità interna. Inoltre dopo la Mazda 3, la CX30 è il secondo veicolo di nuova generazione progettato per avvicinare anche la clientela premium e poi dentro il cofano c'è il rivoluzionario motore Skyactiv-X che promette consumi ridotti e piacere di guida. Unire i vantaggi del diesel a quelli del benzina è così che Mazda descrive lo Skyactiv-X e non è certo un'affermazione da poco. Domenica 29 settembre nella concessionaria Mazda di Osimo di Auto 82 c'era anche Radio Arancia in diretta. Abbiamo seguito tutto l'evento, abbiamo realizzato le interviste, abbiamo conosciuto le facce e le reazioni dei clienti che per la prima volta entravano in contatto con questi modelli. I prezzi della CX30 partono da 24.750 euro ma per avere il motore Skyactiv-X ne servono almeno 29.350 cui vanno aggiunti 2.000 euro per il cambio automatico e 2.200 per la trazione integrale.